A Villa Trabbia, sopralluoghi e grida d'allarme non sono certo nuovi. Quello che uno dei parchi urbani più grandi e frequentati della città, luogo di ritrovo per grandi e piccoli e anche sede di manifestazioni, è stato spesso in realtà al centro dell'attenzione. A volte per le denunce dei cittadini, altre volte per l'abbandono o la mancata manutenzione del giardino e delle statue, altre volte ancora per la vigilanza. E del resto basta un colpo d'occhio per rendersi conto che lo stato di conservazione della villa è ben lontano da come dovrebbe essere. Adesso però scattano anche i sigilli, quelli disposti dal giudice per le indagini preliminari che ha ordinato il sequestro di alcuni manufatti del parco a causa dello stato di degrado riscontrato dai tecnici e documentato nella relazione della Polizia Municipale. Così come è accaduto di recente in corso Vittorio Emanuele, insomma si cerca di prevenire il peggio che sarebbe poi il rischio di crolli e dunque di pericolo per l'incolumità pubblica. A destare maggiore preoccupazione è lo stato in cui verse il ponte sulla via Mattarella attraversato ogni giorno dai frequentatori del parco. Anche l'amministrazione comunale corre ai ripari. Il sindaco Orlando ha dato il via ad un'indagine interna. Villa Trabbia nei mesi scorsi era stata protagonista di un'operazione di maxibonifica e proprio in quell'occasione, dice il sindaco, era venuto alla luce lo stato effettivo di degrado di alcuni manufatti. Ora però, aggiunge Orlando, bisogna accertare tutte le responsabilità interne ed esterne alla macchina comunale.